PIZZA! 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 Una lezione diversa dedicata ai più piccoli per un progetto che l'Associazione Italiana Pizzaioli sta portando avanti nelle scuole della città di Barletta. L'obiettivo è quello di promuovere il mangiar bene attraverso la qualità dei prodotti, partendo da un piatto della tradizione italiana, la pizza. Il nostro progetto è far divertire questi piccoli bambini, farli magari crescere, imparare come si fa una buona pizza da noi in Puglia. Ma qual è il segreto per una pizza doc? Gli ingredienti sono semplici, sono quattro. Acqua, farina, olio e sale. È tanto amore e tanta passione per una buona pizza. Abbiamo fatto vedere ai bambini come si cresce una pizza. Dalla farina, mettendo l'acqua, il sale, il lievito, farla lievitare, poi stenderla, infornarla, poi degustarla. Questo è un lavoro del futuro dove non c'è mai crisi. La pizza è sempre mangiata. La pizza è sempre mangiata.